C'è un futuro per queste vetture della Facorsa? Il futuro intanto è cercare di portare a termine il Giro d'Italia, che è una gara ancora lunga, ci sono ancora tre giorni di gara, mentre questa vettura è molto giovane e non abbiamo avuto tempo e modo di approfondire il problema affidabilità, pertanto già portarle in fondo qui sarà una bella scommessa e che cerchiamo di riuscire a indovinare. Per quanto riguarda il futuro, sono macchine che potrebbero andare benissimo nel campionato americano IMSA e se ci sarà qualche team che vorrà utilizzarle, bene, se no le evolveremo, le svilupperemo magari nell'ottica del futuro Giro d'Italia. Giro d'Italia 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 Grazie a tutti. 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 ... 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